ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qua ancora una volta con un episodietto dedicato ai vostri video voi che state guardando i vostri orologi alle vostre simpatiche collezioni e soprattutto la vostra personalità come la esprimete in questo simpatico hobby e come decidete di proseguire perché ognuno di noi sceglie gli orologi in base al proprio gusto ma non è così semplicemente in base al proprio gusto e basta anche in base al proprio vissuto le proprie esperienze ai propri ricordi a quello che ci ha lasciato i ricordi che ci hanno lasciato l'infanzia il nonno gli orologi che abbiamo visto e anche gli studi che abbiamo fatto insomma è un insieme di fattori che decide che ci porta a decidere quale orologio scegliere non è semplicemente il gusto così detta papale papale quindi è per questo che bisogna rispettare il gusto altrui cosa che a me non riesce naturalmente scherzo io lo rispetto al gusto altrui però quando mi viene chiesto un parere io il parere lo do rispetto al gusto mio quindi se voi mi chiedete io vi dico e se io vi dico non offendetevi punto ora come partecipare lo sapete video in orizzontale massimo sette minuti non esagerate siate spigliati concisi e veloci soprattutto un italiano più possibile comprensibile dalle persone che ci guardano perché lo stivale è lungo e non è largo vabbè quello è un altro discorso e l'email in sovraimpressione passa qua sotto voi mandate video caricare mandare link l'orologio del giorno è questo simpatico rolex explorer da 39 mm un simpatico orologio che utilizzo come every day watch cioè si 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 dice così che lo utilizzi come every day watch poi c'è così tanti every day watch che mi ci vorrebbero così tanti every day in my life che non ci sono no capito però infatti bisognava anche un pochino diciamo razionalizzare la collezione ogni tanto ci si prova ma non ci si riesce perché gli orologi sono come i figli su pezzi e core hai capito va beh passiamo al primo video da ciao davide ciao amici del canale oggi mi sono riservato di fare questa esperienza fresca 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 insieme a voi è arrivato questo pacco fresco 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 di corriere che apriremo insieme tutto fresco allora un attimo di pazienza certo datemi giusto un attimo di pazienza ma certo si è qui apposta do di saluta davide ciao davide prevedere l'orologio ciao dodi un film della casa allora eccoci qua cos'era video nel frattempo io scopriamo vediamo di che cosa si tratta ecco qua è un mito bravo a tempo voglio dire una cosa con voi la mia collezione grazie a davide e voglio fare giusto un piccolo memorandum sono il cavaliere oscuro del canale contatori del tempo posso all'auto oscuro bando alle ciance lì chiaro fatto un po gli spiritosi e vediamo che cosa viene fuori da questo scatolone guardiamo scatolo bene sì io sono quello a cui piacciono in special modo gli orologi neri è proprio che è un orologio che ho comprato usato su una nota piattaforma online dedicata appunto all'orologeria comunque il rullo di tamburi tgv tgv voilà ecco a voi il mido ocean star chronograph all black questa è la versione tutta in nero con doppio cinturino guardate che bello almeno diciamo per quello che riguarda i miei gusti personali estensione perché poi è sempre una questione di gusti personali esatto trovo che sia un orologio fantastico non ho resistito alla tentazione anche avendo un po di tempo più diciamo a disposizione un po di tempo libero in più per dedicarmi a quelle che sono le passioni ecco che quindi ho fatto questo danno danno e ho acquistato questo bellissimo orologio danno all'erario all'erario di famiglia vediamo allora è uscito anche quest'altro cinturino attenzione piano piano molto carino che praticamente l'attacco così rapido lo sgancio rapido molto bello anche questo molto bello finito molto quindi un orologio che volendo si può sfruttare 12 volevo solo farvi vedere come mi sta al polso insomma lo spettacolo per quello che riguarda sempre il mio gusto personale ma devo dire che insomma difficilmente qualcuno potrà recriminare il fatto che è un brutto orologio c'è da dire inoltre che monta un movimento 77 53 eta e che è resistente all'acqua fino a 20 bar quindi 200 metri credo che sia quindi ottimo anche per le immersioni e voglia da dilettante alle quali sono solitamente abbezzo avere se dire ragazzi adesso a giusto l'ora lo carico e me lo godo e magari vado anche al mare visto che il fine se siamo oramai nel fine settimana e buon divertimento a tutti grazie davide la sede dirai di pubblicare massimo pubblichiamo ciao pubblichiamo dai love love c'è anche il bambino che ha mostrato il suo orologio del giorno come possiamo non pubblicare questo video bambino aveva il funny field watch cioè l'orologio da campo divertente della casio colorato bravo ti hai fatto un bel acquisto questo video qua tutto nero non è che rientra tanto nei miei gusti ma cavolacci se c'erano le caratteristiche tecniche no un diverone cronografo bello massiccio robusto da andare al mare giustamente sul gommone in barca dove volete al suo perché 77 53 giustamente dici perché dal cosa si riconosce che è un 77 53 e non un 77 50 dal fatto che ha i contatori ad ore 9 e ad ore 3 i due contatori la data è in basso infatti sulla carour esterna c'è il pulsantino per regolare la data quindi è una modifica del 77 53 il 77 53 nasce con i contatori a che già una modifica del 700 del 77 50 a ore 9 6 e 3 a questo qua hanno sportato quello delle ore 6 ci hanno messo la data tutto lì molto bello come orologio dai godito al mare vai che il fine settimana è arrivato vai al mare divertiti faccio il bagnone e goditi l'orologio black all black ciao davide sono marco ti invio questo video non tanto per farti vedere la mia collezione di orologi perché come vedrai è piuttosto scarna ma quanto più per avanzare una provocazione a te a me iscritti al canale qualche mese fa infatti decisi di vendere tutti i miei orologi per acquistarne uno soltanto il mio gray watch che è questo rolex explorer 124 270 36 mm l'ultima referenza da 36 mm meglio un orologio eccezionale che 45 orologi decenti è il mio pensiero ovviamente il discorso vale anche per segnatempo di marchi meno blasonati ritengo infatti sia meglio acquistare un emilton o un mido piuttosto che 3 6 o 5 due pagani design e un vagari cosa ne pensi hai pensato di vendere tutta la tua collezione o gran parte di essa per acquistare un unico pezzo love love ecco fatto la domanda del secolo da un milione di dollari alla quale ognuno risponde in maniera personale e nessuna è sbagliata e nessuna risposta è sbagliata perché ognuno sceglie quello che fare te sei fortunato perché hai saputo fare questa mossa cioè è venduto tutto e c'è un orologio solo sei contento siamo sicuri guardati dentro fai una panoramica introspettiva cerca di capire se è veramente quello che vuoi perché secondo me cadrai presto nella rete di un nuovo orologio questo è come penso sì in linea generale è giusto avere anzi un orologio buono bello di pregio rispetto a 5 6 dello stesso valore suo ok sono d'accordo con te ma io non ci riesco io non ci riesco a me passano così tanti orologi sotto le mani no prestati recensiti anche regalati no mi capitano che io dovrei in teoria dovrei non avere nemmeno voglia più di comprarmi un orologio perché ne vedo così tanti li provo li testo per un giorno due tre quattro cinque quello che sono ce li ho lì però è differente è differente possedere un orologio e non possederlo che ti passa per le mani e lo devi restituire o che te lo prestano no o l'orologio di un amico è differente io bramo il possesso dell'orologio che desidero è inutile che mi dici te lo presto te lo presto un mese no non me lo prestare un mese non lo voglio un mese se non è mio non me lo godo se non è mio non lo sento qualcosa che ho scelto io che fa parte della mia collezione quindi nonostante io ne veda tanti di orologi ho sempre voglia di possedere altri orologi e lo dimostra il fatto che praticamente se non è uno al mese poco ci manca che ne compro poi chi me lo farebbe fare ora il mio prossimo obiettivo per esempio è il login legend diver che costa 2.000 qualcosa oppure un seico di quelli da intorno ai 1.000 euro ma chi me lo fa fare cioè però c'è anche il il punto successivo cioè quando io poi voglio comprare un orologio da 8.000 euro e allora magari un paio li sacrifico no li sacrifico uno da 2.000 uno da 2.000 ci metto qualcosa sopra non è però non è che li vendo tutti per averne uno solo non ci riuscirei mai cioè non ci riuscirei mai è impossibile cioè li vendo tutti poi mi faccio un orologio da 50.000 euro butta lì e poi cosa ci faccio con quell'orologio lì ci vado quando devo zappare l'orto dai miei genitori no mi metto il timex al quarto ma allora anziché il timex al quarto posso andarci con il mio solito oris diver 65 che è robusto e l'ho preso per queste situazioni particolari sì ecco allora perché lo devo vendere no non lo vendo è così a me piace avere più orologi di più fasce di prezzo addirittura ora c'ho il secco skx l'orient l'orient no il citizen pro master e voglio prendere un orient di quella categoria lì cioè posso evitarli questi orologi sì che posso evitarli ma mi piacciono li voglio possedere e ce li ho quindi ognuno faccia come meglio crede te hai comprato un rolex explorer da 36 ti senti soddisfatto buono buono per te però ora rimani su quei passi lì rimani sul punto non ti voglio vedere con un altro orologio che lo compri no perché hai fatto questo passo qua e sei difensore di questa scelta qua io invece posso fare quello che voglio perché non sono di questa scelta qua se voglio comprare un orologio da 10.000 lo prendo ne vendo due e lo prendo se voglio comprare un orologio da 300 lo prendo non mi faccio problemi punto mi sono alterato no spero di no prossimo video dai ciao davide paolo da geneva 54 anni bravo da 40 appassionato di subacquea e di orologeria allora lo stato attuale oris regolatore 43 5 di diametro 30 atmosfere elio e fondello a vista bellissimo il bracciale a maglie aperte peccato che non si possa più giocarellare con il nato con l'izzulo ma è la nuova produzione subacquea della casa questo è il terzo regolatore che compro nella mia vita utilissimi utilissimi quando sei in mare in condizioni di stanchezza o di scarsa visibilità l'altra mia grande passione sono queste casse della squel da 100 atmosfere hanno avuto un po' questo è lo gatto a tavernier bellissimo il quadrante un marrone un colore molto molto strano cangiante e diametro di 40 di 40 mm perfetto per il mio polso l'ho trovato nuovo con etichette un orologio perfetto bello ciao anch'io se è classicissimo non ha bisogno di nessuna presentazione è il quarto che compro l'aqualand è classicissimo in questa questa volta l'ho preso blu direttamente già braccialato in mare un po' un po' superato come prestazioni però modello iconico molto molto piacevole davvero al polso con i suoi 44 mm anche ci piace questo è uno skin della review di tanti anni fa l'aveva preso ai tempi una persona che adesso non c'è più quindi è diventato un bellissimo un bellissimo ricordo lo lo indosso sempre molto molto volentieri bravo grande passione sono anche 24 ore mamma mia un po nella mia vita questo è della mont blanc l'ho preso fatico io con questi orologi qua mono lancetta 24 ore li fa anche la master singer no per esempio un pochino più economici del mont blanc fatico e sono particolari nel senso uno che ha una collezione ampia e qui si torna al discorso di prima perché tanti orologi perché se uno vuole un gmt un mono lancetta un sub deve avere più orologi no questo qua uno che uno che è una collezione un po ampia vuole un mono lancetta perché gli piacciono ecco fatto che ma come primo orologio la vedo dura e chi è che si prende un mont blanc mono lancetta scala 24 ore insomma il 24 ce l'ha giù a ore 6 va bene va bene va bene andiamo avanti qui il negozio a genova molto particolare come vedi non ha ha soltanto la la sfera delle ore secondo me più che un orologio è un concetto del del tempo bello con pezzi in bronzo e fa un blan secondo me fa dei prodotti veramente validi poco sì quello che è tutto è che è un concetto hai ragione ora ci ho ripensato quello che hai detto hai ragione cioè nel senso che non c'è la lancetta dei secondi non c'è la lancetta dei minuti vuol dire easy prendi la vita con calma qua più o meno siamo tra le 18 e le 19 30 da quell'orario lì con calma è un concetto di vita sì però a me a me garbe mia vabbè considerati in italia peccato questo è uno zodia che sst abbiamo preso i tempi e l'orologio che usa normalmente la mia compagna perfetto e lo porteremo fra fra un po a far dare un po una pulitina perché il quadrante incomincia ad avere delle righe dato dal primo disco e volendo avere il movimento come deve essere misterioso lo porteremo in pulizia misterioso perché quel tipo di orologio lì invece di utilizzare le lancette normali lo dico per chi non sapesse utilizza due dischi trasparenti sui quali sono dipinte quindi sembra che sono sospese e indipendenti una dall'altra capito quindi viene detto misterioso chiaramente il gioco funziona finché c'è nitido finché trasparente perfettamente il cerchio sia di una che dell'altra nel momento in cui si sporcano incominciano a vedersi questi cerchi trasparenti che si sovrappongono che girano e non è tanto bello si perde il mistero no è scoperto ha scoperto l'inganno è questo vetta e me l'ha lasciato mio padre bello forma a forma quadrata molto molto piacevole da portare monta un età mi pare un 2789 molto preciso stiamo cercando il vetro disperatamente come per quest'altro e di nuovo di mio papà il classicissimo seco dell'epoca se qualcuno del canale avesse ci potesse aiutare ci farebbe un grandissimo piacere mondaine normale 36 al quarzo perché ho anche la passione dei treni elettrici e dei treni in generale e allora ho voluto prendere un mondaine semplicissimo da leggere fa della leggibilità naturalmente come tutti mondaine il suo il suo assoluto punto di forza questi orologi qua mondaine sono orologi di design diciamo così non hanno niente di peculiare a livello di pregio meccanico però lo stile il design perché perché questo questa forma questa questo aspetto dell'orologio che avete visto era anche riportata nelle negli orologi con con il palo no come si dice gli orologi col palo nelle stazioni ferroviarie francesi c'erano gli mondaine infatti così con quella lollipop arancione lì sulla lancetta dei secondi interessante simpatico simpatico orologio qui ci sono dei muletti questo qui è l'apex 20 atmosfere che usano normalmente la mia la mia compagna abbiamo attaccato una vecchia bussola di un vecchio corso di orientamento subacqueo un quarzo come come quello che uso io da ormai 25 anni un vecchio vecchio besciò pesantissimo una mattonella al polso indistruttibile veramente un prodotto eccezionale per quello che gli ho fatto fare io e indistruttibile e poi il classicissimo timex è l'iron man questo è stato legato a cinque telai delle mie ultime cinque mountain bike e secondo me veramente è difficile da da mettere in crisi un prodotto del genere qua ci sono i computer che usiamo normalmente adesso uso un garmin g1 in realtà molto bello pratico perché è l'unico che fa da computer subacqueo e anche da smartwatch quindi lo uso lo uso tutto il giorno adesso sto tornando in mare con questo nepto semplicissimo altrimenti abbiamo nuvatec 330 grande classico l'abbiamo avuto tutti si accende con le dita umide o appena si entra appena si entra in acqua montato con un bungee molto molto pratico in mare come questo omer mk1 ancora oggi imbattibile per prestazioni rispetto al prezzo poi qui c'è il nonno ecco anzi il bisnonno della compagnia un vecchissimo gecko dell'assunto che adesso sto rimettendo in funzione perché lo cedo ad un'amica istruttrice subacquea e questo è tutto spero prossimamente di prendere un regolatore della bullman ditta per noi strepitosa magnifica in una colorazione molto particolare che loro definiscono druck hammer vuol dire camera e per barica altrimenti mi piacerebbe moltissimo un nautical cricket della vulca in ho visto qualcosa di disponibile ancora in qualche negozio spero di presto di fare l'acchiappo grazie davide complimenti un bacione a fiero e un saluto a tutti gli amici vabbè bacione a piero vabbè o bella è interessante la tua prospettiva perché si vede se è un sub penso professionista o qualcosa del genere perché e quindi gli orologi che hai utilizzato che utilizzi che ti piacciono sono tutti particolari nel senso che non è il classico orologio diver mezzo elegante tutta roba e poi interessante anche vedere gli strumenti da polso computer o quello che è noto cosa alla quale io non avevo mai pensato perché non fa parte del mio ambiente che esiste anche lì il vintage nella serie del fatto di computer da immersione questo qua è il nonno di quelli c'è tutta una storia un'evoluzione che magari anche obsolescenza quel punto lì però è interessante vedere come come c'è anche un progresso e anche stilistico degli computer da polso mi è piaciuta sta cosa grazie per che ce li fate vedere perché io sinceramente non li conoscevo proprio completamente fuori dal mio mondo grazie per aver mandato il video e complimenti per gli orologi sì questo si dice sempre dai prossimo video ciao davide sono alessandro da londra volevo farti complimenti per il tuo canale grazie che i tuoi video mi tengono davvero molto compagnia qui all'estero passo subito a mostrarti la mia piccola collezione dico piccola in quanto si tratta di soli tre pezzi sto cercando di seguire la logica dei pochi ma buoni anche te ma vi siete messi d'accordo allora vabbè almeno te sei già tre pochi ma buoni ma anche lì ce ne vuole per tre orologi solamente io fatico fatico dovessi pensare di avere solo tre orologi mi sentirei meno mato mi sentirei mi manca qualcosa no e no tre orologi dove vai con tre orologi che tu possa ritenere questi tre orologi come buoni partiamo subito dal mio daily watch l'orologio che indosso da circa tre anni quasi tutti i giorni oggi nitroconcast oggi do il top che dire conosciutissimo nulla da dire l'unico appunto forse riguardo il peso è un pochino macigno poi ero alla ricerca di un orologio estivo stavo cercando qualcosa nel mondo seico e alla fine mi sono un battuto dopo un po di ricerche questo seico 5 limited edition per peanuts ovviamente è un'edizione limitata ma è visto 100 pezzi mi sembra possiamo vedere qui le caratteristiche con snoopy sulla corona e sul fondello ora che relativamente a questo orologio scusa ma il fondello è chiuso meno male finalmente un 6.5 sport con la cassa slim col fondello chiuso se non è un adesivo non lo conosco non l'ho mai visto bello oggi davide volevo chiederti qualcosa ho ordinato questo orologio da un commerciante ordinato online da un commerciante di glasgow e quando mi è arrivato il pacco sigillato sono andato ad aprirlo ho notato che mancava sia il libretto delle istruzioni che la card di garanzia ora io ho contattato il venditore venditore ha detto che verificava con il deposito però mi ha anche detto che sembrerebbe che segue nell'ultimo periodo non stia più mandando il libretto con la card ora a me questa cosa qui mi pare un po strana e volevo sapere se tu avessi notizie riguardo a questo questo nuovo modo di comportarsi di seco se se ne sei qualcosa se è vero se non è vero comunque penso che insisterò con il venditore per farmi inviare la carta al no allora ascolta se il venditore è ufficiale è un concessionario ufficiale un negozio ti manda la card ce l'ha ce la deve avere se è serio c'è poi invece l'altro discorso che quando si compra io ho comprato seco anche su amazon se il venditore di amazon è una gioielleria fisica sparsa per l'italia ti manda la card ti manda la card col timbrino e tutte le cosine precise se lo compri invece venduto e spedito da amazon ti arriva senza card ora questo mi fa pensare che c'è uno stock è una mia ipotesi è uno stock di orologi di secco 5 o anche anche orient anche tre orologi che vengono deviati dalla distribuzione ufficiale e vengono mandati in vendita direttamente da amazon e per non essere riconoscibili l'unica cosa che mi viene in mente questa no se c'è la card sai da quale lotto è arrivato non viene inviata la card oppure arriva in bianco a volte senza e questo avviene su marketplace se questo venditore qua ha questi orologi qua che non sono con la card o con la card in bianco vuol dire che ha fatto uno strafuglione da qualche parte per per averli magari anche un prezzo da stock per poi marginarci maggiormente però ripeto un venditore ufficiale concessionario ufficiale seico come può essere pasquale domenici di viareggio no è l'esempio parte nel canale lui vai lì ti vende il secco 5 da 222 dollari e con poco margine però c'ha tutto le sue cosigni che deve avere la card un negoziante fa così qua non capisco eh insisti insisti ma poi dopo si rischia che siccome costa 200 200 euro 250 va a finire che desisti che dici ma è più è più è più il rodimento l'impresa che la spesa lo tengo così no va a finire così giocano su questo fatto prima possibile poi eh passo all'ultimo orologio ero alla ricerca di un qualcosa di un po' più elegante dalle mie occasioni e stavo cercando qualcosa oro e argento e alla fine sono riuscito a prendere questo Alex Explorer 36 top oro e acciaio e che dire? io direi che non ci siamo allora io amo proprio veramente a me piacciono tantissimo gli orologi oro e acciaio ma devono essere devono essere anche adatti non tutti non qualsiasi orologio che esiste solo acciaio lo trasformi in oro e acciaio e rimane bello oppure diventa più bello no no deve essere adatto per esempio a parer mio non è che perché ce l'ho cioè l'ho comprato perché mi piace il Dejust col bracciale Jubilee e la ghiera zigrinata in oro e fanno tutte quelle sfaccettature in oro giallo che è la fine del mondo per me se avessi avuto per assurdo il bracciale Oyster il mio Dejust no non l'avrei preso in acciaio e oro come questo qua è il bracciale Oyster acciaio e oro non mi piace non mi piace poi cerchè da dire vabbè lo stile l'Explorer è un everyday watch un orologio da battaglia un professionale fa parte dei professionali di Rolex l'Explorer e quindi acciaio e oro poi oh ma se a te ti piace siamo tutti contenti sei contento te boh basta così eh perché hai speso anche di più rispetto al tutto acciaio quindi se sei stato disposto a spendere di più vuol dire che ti piace veramente cioè c'è poco da mettere in dubbio eh e avanti veramente molto bello sono stato fortunato perché dal momento in cui ho espresso la mia manifestazione di interesse è passato soltanto un mese l'ho preso qui a Londra dalla di Rolex e so che questo modello ha creato un po' di scalpore quando è stato lanciato in quanto i puristi Rolex malvedevano un Explorer con l'oro in quanto forse non lo so andava a snaturare un pochino lo spirito dell'Explorer però penso che alla fine Rolex su tutti i suoi sportivi abbia introdotto la versione con l'oro quindi è stato fatto anche sull'Explorer e poi se ben ricordo nel passato remoto era stato già fatto comunque sia un Explorer in oro e niente Davide questa è la mia piccola collezione spero di integrarla nel prossimo futuro forse mesi anni non lo so con un GMT e con un cronografo fammi sapere cosa ne pensi un saluto a tutti gli amici del canale love 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 cosa ne penso tre orologi tre belli orologi non ho nulla nulla da dire ho espresso il mio parere mentre il video si dipanava quindi tutto tutti tutti i belli orologi infatti il mio dubbio era tre orologi una 3 watch collection ce ne ho tre un longino un secco un Rolex ma non è la tua intenzione fermarti lì perché vedo che vuoi andare avanti quindi c'è la 3 watch collection semplicemente perché ti trovi in quel punto lì del percorso non perché hai fatto delle rivoluzioni o ne ho tre vabbè dai prossimo ciao Davide sono Andrea di Venezia complimenti per il tuo canale e per la personalità che ci metti per portare avanti questo bel progetto grazie di diffusione di buona orologeria prima di passare alla mia collezione faccio vedere la precedente eccola qua bello troppo è una foto perché mi è stata sottratta mi è stata rubata nel 2011 spiace e adesso un po' alla volta ne sto costruendo una nuova unico superstite di quella collezione eccolo qua è il post design di WC bello orologio degli anni 80 questo è stato comprato negli anni 90 e io l'ho preso usato perché naturalmente è un orologio fuori produzione e quindi ora io ho sempre distrattato diciamo porsche design i porsche design perché sono limitato la verità è questa sono limitato sono limitato io perché gli orologi vanno anche considerati come oggetti di design cioè ci ricompriamo anche per quello in fin dei conti no e denigrare quelli come faccio un esempio no anche a cosa i gaga milano i gaga milano gli u boat i frank muller no i porsche design sono orologi di design dobbiamo prenderli per quello li che sono ok se uno come me ama gli orologi sobri contenuti non troppo sgargianti non è che deve per forza denigrare no anche quelli che hanno un design forte un carattere forte no come questi porsche design che io l'ho sempre un po' tenuti con il sottobanco senza considerarli e invece ognuno di loro ha una ricerca di design dietro che è molto molto elevata a me non piacciono io non li comprerei non lo voglio però gli va riconosciuto che sono particolari ed hanno lasciato il segno nella storia degli orologi non dico dell'orologeria ma degli orologi quindi difficile trovarlo il bracciale è molto particolare perché con un utensile doppia punta si riesce a staccare gli elementi che sono da 5 mm all'uno e quindi trovare una buona regolazione al polso anche col cambio di stagione bravo eccolo qua 2000 metri in quegli anni era l'orologio praticamente che aveva una profondità più elevata di tutti gli altri competitor addirittura questa lunetta ha un brevetto per cui si può azionare solo premendo con due dita e poi ruotando dopo aver subito la sottrazione dei miei orologi mi è stato regalato da un amico di mio papà questo Tissot lo faccio vedere perché ultimamente Tissot ha riproposto questi orologi denominati Sideral questo è un pezzo particolare ha il cinturino integrato con la cassa crono suisse regolatore orologio non mi piace che ha una certa personalità la lunetta godronata questa corona a forma di cipolla le viti per agganciare il cinturino ecco ora che me lo spieghi incomincia a piacermi di più vedi a volte a cosa servono le panoramiche le recensioni a spiegare l'orologio non è che a farti vedere le fotografie come ho fatto come ne ho fatto i particolari quella cosa che stai facendo te adesso no al di là che a me non piace proprio l'aspetto troppo classico di un orologio come questo però tutti questi dettagli qua tecnici stilistici me lo fanno apprezzare un pochino di più e se non ci fossi stato tu a farmi vedere io magari non mi sarebbe mai capitato a mano questo orologio no quindi ecco a cosa servono anche i vostri video a farmi imparare a me ad apprezzare dettagli cose che altrimenti ansepo e no ci ho montato la deplo originale è il 1966 di girar per ego qui una versione particolare con il quadrante in avventurina cinturino coccodrillo blu e movimento a vista un po piccolino rispetto alla cassa però sono a fare un nuovo movimento per questa casa qui avrebbe fatto di evitare il prezzo dell'orologio come vediamo ci sono anche cioè l'effetto ciambella no non è riservato solamente agli orologi da economici anche le grandi case anche certi tipi di orologi costosi hanno questo effetto ciambella perché perché vogliono fare vogliono mettere il calibro a vista se non lo mettessero a vista non si noterebbe perché nell'orologeria industriale se il calibro è quello lì poi lo devi usare per le casse piccoline e per le casse grandi e nelle casse grandi ci metti un fermo movimento uno spessore detta papale papale e lo blocchi dentro una cassa più grande se abbiamo il movimento piccolo nella cassa grande è normale industrializzazione altrimenti per ogni forma di cassa te dovresti pensare un calibro per quella forma di cassa lì quanto ti viene a costare ogni orologio se facciamo un calibro per ogni cassa una marea già costano tanto il glasciute 60s bello con il quadrante commemorativo del 2019 grandata con questa tonalità che va dal giallo a rosso scuro e questa texture bello bello materica bello il panorama date che è il loro brevetto yes cinturino alligatore della louisiana naturalmente il fondello con il movimento di manifattura bello lavorazione scuola allora da notare come il vetro ah qua hanno fatto cioè il vetro va sembra sembra quasi sospeso sto calibro qua c'è l'effetto ciambella ok anche qua lo vedete però il vetro va a coprire è fatto in maniera che va a coprire anche il fermo movimento e mi lascia solamente quel quel piccolo bordo lungo la cassa e il calibro sembra fuori dal fermo movimento è veramente particolare bisogna anche vederlo dal vivo perché veramente è veramente accattivante la tedesca fondello in vetro zaffero guarda lì come fare bene il movimento eccolo qua ingegner dvc modello degli anni 90 34 mm con lente magnificatrice della data anorologio piccolino come diametro però veste bene il polso e il mio polso da 17 ci sta molto bene sta bene sì ultimo pezzo della collezione che questo eccolo qua top e berard tazio nuvolari cronografo due contattori con l'immancabile tartarughina simbolo del tazio nuvolari yes bella la lavorazione della lunetta riportata anche sul fondello che presenta anche la firma tazio nuvolari qui con il bracciale cinturino e dotazione ma specialmente adesso che è stato e preferisco portarlo con il bracciale ecco ti saluto mantenendo sullo sfondo questi due bei movimenti i prossimi acquisti saranno orologi un po più sportivi pensavo al glashut 70 quadrante verde o con quadrante blu micchia e a seconda del quadrante che sceglierò vorrei prendere un altro sportivo che è il blind pen battiscaf cronograf anche lì nella declinazione con quadrante blu o con quadrante verde pensando poi anche un orologio sportivo con metallo nobile senza esagerare apprezzo la proposta di omega il 300 in bronze gold per sapere cosa ne pensi ciao e complimenti ciao grazie spari alto c'hai c'hai veramente l'artiglieria grossa di grosso calibro blan pan original glassut belli orologi complimenti che anche questa questo gusto ne saper scegliere cose particolari l'omega lì gold bronze che dici te si mastera 300 è cosa che dico è un orologio che costa 4 14 mila e rotti euro non è che stiamo a parlare di bruscolini la cassa è fatta di si di bronzo ma con l'aggiunta di oro e palladio se non mi sbaglio è anche argento è anche argento oro palladio argento in piccole percentuali quindi cosa cosa succede che è un bronzo che non non vira al verde non si ossida così fortemente come il bronzo standard ma leggermente la sua patina fa naturale leggerissima nel tempo senza esagerare e senza andare a intaccare vestiti o polso che dir si voglia no particolare costa e tra l'altro c'hai poi il quadrante che invece è proprio in bronzo il quadrante è in bronzo standard chiamatelo come vi pare però invecchiato con un trattamento un'accelerazione di invecchiamento che poi lo porta ad essere di quel marrone scuro che diventa neutro cioè non cambia più quello è l'hanno portato invecchiare quel punto lì e quello è veramente un bello orologio piace mi piace ce l'avevo l'omega 6 master 300 ce l'avevo te se vai a scegliere quello più costoso con le particolarità dei materiali buon per te che è questa possibilità cosa perché penso prendilo come ti direi prendi anche il grassute o prendi anche il blan pan mi stai proponendo tre orologiche c'è poco da remargli contro boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti i simpatici video che ci hanno mandato gli amici del canale che poi siete voi spero che vi sia piaciuto il presentatore e spero che vi sia piaciuto insomma tutto l'ambaradan che ho messo su detto questo vi ringrazio e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love